Signori benvenuti e bentornati su Star Wars, eravamo arrivati esattamente qui, non ho continuato di un centimetro Andiamo qua, dovevamo andare da questa parte Per quale motivo però? Mio dio Però ho una mezza idea Ho una mezza idea Sapete qual è? Ve la faccio vedere Sono riuscito abbastanza bene, devo dire Questa cos'è? Il pianeta degli enigmi? Hai visto niente visibile? Eeeh Eeeh Puoi morire tu, puoi morire È stato facile Col primo attacco li abbiamo tolto quasi tutta la vita Quindi in realtà molto bene Guardiamo della tomba Guardiamo un po' delle palle direi Niente, questi qua li prendo sempre in faccia Non c'è niente da fare Io qua devo andare Lì dentro devo andare Se riuscisse ad andarci Non torniamo se c'è qualche feature Con quale leggiadria Niente, io mi sbaglio ancora con i tasti Va beh Va beh Va beh Va beh Va beh Va beh Quella lì con la palla gigante di prima Non l'abbiamo ancora risolta, eh amici E vai Quelle statue antiche Non di qua non so cosa c'è Però non vedete che non riesco ancora a sbloccare Molte cose Perché si vede che mi manca l'abilità Sicuro Perché come vedete Gli enigmi dove posso andare L'abbiamo fatti praticamente istantaneamente Quindi secondo me Nelle parti rosse Non possiamo ancora andarci Ora è tutto chiaro forse Vediamo se Qua acquisteremo l'abilità Che tanto voglio Vabbè tutto in faccia Tutte, tutte, tutte Sì Cos'è dietro Incollato, glitchato così Una lama Cos'è Provaci di nuovo Tonda, tonda Più veloce Supera la prova Riprova Ciò che si oppone al cammino Ne diventa parte Oddio Fermi tutti Adesso le cose Si fanno interessanti Che senso ha venire qua? Era una burla? Adesso le cose si fanno molto interessanti Uh, molto interessanti Finalmente Fammi vedere la mappa Di qua non c'è niente Mi ha fatto sbloccare una scala Però tanto Devo tornare poi indietro Probabilmente Beh che porta a casa bro Mi chiamiamo l'eco Tutto questo per un'eco Darci qualcosa di intelligente Mi ha dato Nuovo materiale per la spada Pucca roba Non ce ne frega niente Però interessante Adesso tutte le cose rosse Cari amici Possiamo passare Avete visto? Non so come corre Vai corri ragazzo Raggiù Pa 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 Guarda qua bro Questo è grosso eh Lo sapevo Adesso succede casino Cerchi all'occhio Addirittura Succede casino Farò finta Una spada laser Delle balle Zang Seccato Scansionami il morto L'altro Sarcofago Di Eilram Destinazione Sbloccata Kashyyyk Adesso le cose Cambiano Notevolmente Autoconazione Con la forza Sono disponibili Le nuove abilità Finalmente Oh signor Allora Se mantieni spinta Kahl Spinge gruppi I nemici Fa vacillare I nemici Più grandi Kahl Recubra Più solito Quando usa Contenitore Non mi interessa L'assoluto Massimo Di Kahl Aumenta Kahl Devi automaticamente I colpi Di blaster Mentre scatta E corre Sulle pareti Questo è utilissimo Questo è utilissimo Ok In automatico Vedete Possiamo Fare qualcosa Di bello Se attendi Più a lungo Prima di attaccare Dopo che hai usato La spada laser Kahl Puoi eseguire Fai invadere Una abilità Ah Puoi eseguire Una schifezza Ok Se mantieni spinta Kahl Spinge gruppi I nemici Kahl Recubra Più forza Quando il tuo nemico Ne ottene un po' Quando il più Ok Questo mi serve Va bene Va bene Piano piano Comunque ragazzi Stiamo aumentando Molto velocemente Si migliora Molto velocemente Qua Adesso Tutto quello che è rosso È diventato verde Questo l'ho fatto molto male Via Voilà Che lo aiuta Giusto Il vento non basta Per spostare quella sfera Il vento non basta A spostare quella sfera Noi si Skaching Porca Immagino che io devo andare di là No Di qua è sbloccato qualcosa Però Non è chiaro cosa Va bene Vado di qua Penso che posto brutto Vediamo un po' Sono Ho una curiosità Ragazzi Per questo gioco Impressionante Mannaggia a me Alla mia fretta Mannaggia a me Andiamo con calma Non dobbiamo avere freddo Ci saranno altre sfere qui Già Diamo un'occhiata Vabbè Ho capito L'ho rotta Ho capito Vai vai Ci sarà un'altra sfera Qui vicino È andata lassù Però Io qua non posso andare Qua non c'è nulla Ok Fermati È uscita Che cos'è Ma questo qua c'era già Questa tomba È decisamente affascinante Sono quasi convinto Che quella lì Non serva adesso Non va bene Non va bene Quella lì Devo portarla su Dobbiamo fare un altro modo Vedete Seguiamo questa Palla maledetta Non è andata lassù Non abbiamo visto Una di queste sfere Venendo qui Non l'abbiamo usata Per saltare Cosa vuol dire Ah Ho capito Quale sfera intende Ho capito Quale sfera intende C'era una zona rotta Qua adesso L'ho vista Perdonami Ma serve un'altra sfera Un attimo vedere Oh calma ragazzi Questa è La puntata Degli enigmi Opa Passa qui Secondo me è più facile Di quello che sembra Vediamo se ho capito Primo Di qua Dove si va E chi lo sa Secondo Qua C'è la nostra amichetta Sfera Di qua Di qua C'eravamo già andati Però Vero Oh già Oh già E faccio Buttarla giù Scusami il secondo Scusami se io tolgo l'aria qua Più facile Più facile Fermati Fermati Fermi tutti S'è formato Un attimo Di casino Scaci Ah porca Di una porca Porca Tu Vai Vai così Dai così Assicuriamoci che vada Che vada tutto come si deve Vale Vale Scusami ho creato Un loop Benvenuti Scusami se io la blocco Quando passa di qua Con la forza Poi io da una bella bottarella Non l'ho presa Non l'ho preso Che cazzo Pam 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 Voilà Voilà Siamo di nuovo qui su Così è tantino eh Qui c'è una palla eh Che può andare lì Probabilmente Ok Ma più o meno Cordova ha parlato di un certo Tarful Ah Un capo tribù Erano vecchi amici Credi sia ancora vivo E adesso C'è solo un modo Cioè non si capisce mica Per me sta salendo la parte fuori E anche noi un pelino Le palle le abbiamo scelte le abbiamo scelte tutte lì Va bene Va bene Abbiamo appena spianato la strada all'imperno Eh infatti bomber Abbiamo punti abilità 0 Possiamo andare via Tranquillamente Spero che questa sera ragazzi vi stia facendo perchè Perdonami Perdonami Volo Volo Mannaggia O troppo Vale Veloce 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 Vamo a tirare per la spara Intelligente Bellissimo che c'è la Sì Punto verità ottenuto Ok ok Ma io dove devo andare? Ci sono mille strade qua per potersene andare Oh che roba Lì lassù C'è un sacco di roba qui Adesso ho molta paura E con questo abbiamo finito Quanto siamo? 22 minuti andiamo Merida per l'amor di Dio Albero delle abilità Albero delle abilità Aumentare la distanza che calco raggiunge quando uso l'attacco slancio Questo mi piace da morire quindi lo faccio Mi piace da morire e lo faccio Ok C'è tanta roba qua però facciamo una cosa più logica Fatto bene male Ma vedete c'è sia qua che dall'altra parte Che però dove ti porta quest'altra parte? Ah ti riporta indietro Non so dove andare È tutto bellissimo Forse avrei preferito ragazzi qualcosa di più lineare Forse Non posso fare nulla No andiamo di qua No andiamo di qua Pazza se scende secco Qua secondo me ragazzi questi qua sono caricamenti Perché ad un certo punto lagga quindi non mi carica una zona Dove vai? È difficile ragazzi controlarlo sul ghiaccio perché non è come camminare Lo sapevo che lo mancava Niente io sulle parti sul ghiaccio non sono capace Io lo dico lo ammetto non sono capace Non sono capace Mazzà oh Non male Non male sono veramente un bomber Questo è impossibile però Vabbè Non mi faccio domande Di cui non voglio sapere le risposte Questo è per salvare? Sì è per salvare Direi di salvare Caverne di ghiaccio La c'è l'impero Posso andare di qua? Mi dice di no Però magari posso entrare lo stesso Questa porta è bloccata Ma la porta è chiusa dall'altro lato Ok Dove sono io invece? Qua Sì qua invece mi fa salire Fa salire su C'è tanto tanto da vedere Ragazzi qua Va bene signori Direi che l'appuntamento di oggi Può finire qui Ci vediamo al prossimo video Tutti a tappare